Ciao a tutti ragazzi, qui Darkamatta che vi parla ragazzi e oggi siamo tornati con una nuova serie ragazzi una nuova serie che si chiamerà il post partita della domenica che vuol dire il post partita della domenica ragazzi? il post partita della domenica vuol dire che andremo ad analizzare tutte le partite della domenica che ci sono state dall'inizio, quindi dal posticipo, dall'anticipo di serie A che c'è stato tra Torino e Sassuolo e quindi ragazzi io direi di cominciare subito ragazzi con la partita di Torino contro Sassuolo ragazzi, partiamo subito ad analizzare questa partita ricordiamo che comunque il Torino ha vinto con 3 reti a 0 per il Sassuolo contro il Sassuolo, secondo me ragazzi quest'anno per il Sassuolo sarà molto ma molto dura perché comunque hanno venduto molto ripeto e quindi sarà molto dura comunque ha vinto il Torino 3 a 0 assegnato al 44esimo Belotti all'84esimo Ademijaj e all'88esimo Joel Hobby quindi 3 a 0 ricordiamo grandissimo gol del Gallo Belotti su rovesciata che direi ragazzi, 3 a 0 Torino, ripeto secondo me un voto da 8 e mezzo per questo Torino ha giocato molto molto bene mentre per il Sassuolo da un 5 vediamo un po' cosa si metta qua e l'allenatore nuovo del Sassuolo poi ragazzi Chievo Lazio, ovviamente si stanno giocando adesso le partite ragazzi si stanno giocando adesso, stiamo tutte all'ottantesimo magari poi se ci sarà qualche cambio ragazzi sì però comunque ragazzi subito appena 30 minuto 34 di gioco del primo tempo e segna subito l'1 a 0 il Chievo Verona segna Manuel Pucciarelli assist di Rombartio Inglese e va il vantaggio Chievo però poi comunque stavo sbagliando ragazzi perché all'undicesimo prima ha segnato Immobile e quindi 1 a 0 Lazio e poi come ho detto precedentemente ha segnato Pucciarelli al minuto 34 quindi per adesso ragazzi una Lazio da un voto di 6 perché comunque ha fatto prima i due pareggi pure con la spalla però comunque ragazzi ha avuto molte occasioni soprattutto con Ciro e Immobile quindi poteva fare la doppietta non l'ha avuta però comunque primo gol possiamo dire comunque primo gol con Fuoricasa in questa Serie A e comunque Pucciarelli ha pareggiato la partita poi ragazzi vediamo un po' vediamo un po' sì perché abbiamo il Crotone ragazzi Crotone e la Sverona Crotone e la Sverona comunque niente da dire qua perché stanno 0 a 0 comunque ha avuto occasione soprattutto molto l'ex giocatore torinese Alessio Cerci però comunque ragazzi qua niente da dire comunque è una partita molto molto equilibrata tra Crotone e della Sverona poi andiamo subito svelti ragazzi perché comunque c'è stata anche la partita Fiorentina-Sandoria ragazzi Fiorentina-Sandoria comunque è finita per adesso sta finendo 1 a 2 1 a 2 comunque segna subito il primo gol per la Sandoria segna Caprari già Luca Caprari al minuto 32 mentre poi al 35esimo segna Fabio Quagliarella su calcio del rigore quindi 2 a 0 per la Sandoria ma non è finita qua perché al minuto 50 segna bene Badel e con assist di Bruno Gaspar quindi 2 a 1 Fiorentina comunque ragazzi io rimango sempre del parere che la Fiorentina ancora deve migliorare i giocatori si devono conoscere ancora perché comunque sono appena arrivati e devono ancora stare sull'ambiente poi ragazzi l'altra partita è stata Milan-Cagliari Milan-Cagliari 2 a 1 per la squadra rossonera comunque parte subito con il bomber Patrick Cutrone 1 a 0 Milan quindi al minuto 10 con assist di Suso mentre al 56 però attenzione perché la pareggia al 56esimo minuto del secondo tempo segna Joao Pedro con assist di Diego Faris e quindi porta il pari alla partita e poi invece segna al 70esimo minuto dopo 30 minuti segna il buon Suso ragazzi quindi fa sia assist che gol una serata molto molto positiva per l'attaccante spagnolo poi ragazzi invece l'altra partita che c'è stata adesso ragazzi è Napoli-Atalanta Napoli-Atalanta comunque è finita 2 a 1 per i partenopei 2 a 1 per i partenopei comunque è stata molto in difficoltà il Napoli perché è andata subito l'1 a 0 dalla squadra bergamasca con il gol di Brian Cristante con l'assist del Papu Gomez Papu Gomez che si inserisce sempre non stiamo qua a dire che è un bomber di razza poi però al 56esimo la pareggia Piotr Zielinski Zielinski è la pareggia mentre dopo pochissimi minuti dopo 7 minuti la pareggia Mertens al 61esimo assist di Lorenzo in serie si capiscono a memoria questi due giocatori poi invece ragazzi la novità della Serie A perché anche la Spal ragazzi fa la sua vittoria comunque anche se pareggia ha fatto un'ottima partita perché comunque segna 2 a 1 subito gol di Marco Borriello si fa subito notare e poi arriva al 53esimo minuto il gol di Lazzari mentre poi arriva il 2 a 1 con il gol di Nuitink Nuitink con l'assist di Youngton quindi 72esimo minuto segna l'Udinese però comunque la Spal un ottimo esordio per in serie A quindi ragazzi per adesso questa insomma queste sono state le mie considerazioni sulla partita che si stanno giocando adesso credo che così dovrebbero rimanere qualche risultato però comunque alla fine cambiano un po' comunque non mi aspettavo il risultato devo dire ragazzi la Sampdoria non mi aspettavo che potesse vincere addirittura anche contro la Fiorentina invece si è fatta vedere con Giampaolo un allenatore che mi piace molto non mi aspettavo poi comunque il vantaggio tra la spalla ragazzi credo che nessuno se l'aspettava comunque l'Udinese è molto subito rispetto alla spalla ma comunque sono molto contento ci sta facendo di fare molti italiani questa squadra di Ferrara poi invece non mi aspettavo comunque subito lo svantaggio del Napoli ma ricordiamo che con l'Atalanta è sempre una lotta continua non si capisce mai e l'Atalanta comunque è una squadra che mette molto in difficoltà partendo per ieri poi non mi aspettavo comunque anche un altro pareggio per la Lazio però comunque ragazzi Simone Inzaghi vedremo cosa farà nella prossima partita ragazzi quindi questo è il mio post partita della domenica il primo episodio non l'ho fatto nella prima giornata perché non poi è incasinato ragazzi quindi questa era la mia considerazione ragazzi forse è cambiato qualcosa perché no non è cambiato niente vediamo un po' raga non è cambiato niente no solo per vedere perché comunque vi voglio far tenere aggiornati ragazzi non è successo niente quindi ragazzi questa è stata la mia post partita della domenica sempre forse io raga e noi ci vediamo a un prossimo video bella ciao 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 ciao